Per quanto assurdo possa sembrare, soprattutto ai giocatori di vecchia data, Capcom da oggi, da pochissimi minuti, quando sto registrando questo podcast, è una compagnia in vendita. Ok, è una notizia piuttosto pesante, è una notizia piuttosto scioccante per chi è cresciuto con Street Fighter e per chi è cresciuto con Capcom, nelle sale giochi, con NES e tutto il resto, per i trentenni lì sicuramente non sarà una cosa facile da digerire, ma è successo questo. Allora, l'azienda aveva, così come tante altre megacorporazioni, aveva una serie di regole per cui, dal punto di vista borsistico, non poteva arrivare nessuno a comprare un tot delle azioni e ritrovarsi poi a controllare l'intera azienda. È successo poche ore fa che hanno annunciato la rimozione di una serie di regole e di una serie di sistemi di sicurezza effettuati dai shareholder, per cui adesso accade che se qualcuno volesse potrà andare a comprare il 51% delle azioni di Capcom, andando di fatto a controllare l'intera azienda. Controllare l'intera azienda significa controllare l'azienda, ovvero decidere in che direzione farla andare, decidere cosa fare dell'AP, decidere se vendere, decidere se comprare, decidere se sviluppare, se non sviluppare, su che piattaforme farlo, cosa siglare, con chi siglare, vuol dire un controllo totale. È considerato che Capcom è oggi una delle aziende più importanti per quanto riguarda il mercato videoludico, a prescindere dal fatto che sia in una situazione negativa ormai da qualche anno, è ragionevole presumere che l'azienda verrà comprata. Non si sa da chi, non si sa quando, è comunque necessario sborsare una quantità notevole di denaro per riuscire a proseguire con la transazione, ma si tratta di Capcom, che è piena di IP importantissime come appunto il già citato Street Fighter, ma anche franchise più recenti come Resident Evil. Adesso c'è chi parlava di un interesse che poteva svilupparsi da parte di Nintendo nei confronti dell'azienda. Poco probabile che una delle tre major vada a comprare Capcom, perché si tratta di un'azienda che, a dispetto delle sue IP fortissime, è comunque in una situazione molto difficile da parecchi anni. E diciamo che si è un po' andata a cercare la situazione presente. Se noi pensiamo a tutte le cazzate che ha fatto con, vi ricordate quando ci fu lo scandalo dei DLC messi direttamente all'interno dei giochi, praticamente, che poi semplicemente andavano a essere sbloccati attraverso le microtransazioni dei giocatori, e la decadenza di alcuni suoi franchise storici come appunto Resident Evil, che è stato massacrato. L'ultimo grande Resident Evil tecnicamente è arrivato con l'epoca Gamecube, con il quarto episodio. Da allora è stato parecchio discutibile quello che è stato fatto. Diciamo che l'azienda ha pagato molto, non tanto in fatto di vendite, ma in fatto di review e di percezione da parte del pubblico. E questo ha delle ripercussioni gravissime, ovviamente, sulla situazione azionaria dell'azienda. Situazione azionaria che è quella più importante per loro, perché è quella che determina i vantaggi reali dal punto di vista economico, o il crollo che è da qualche anno a questa parte. Diciamo che fino al periodo PS2 l'azienda riusciva ancora a giocarsi bene le proprie IP. Dopo c'è stata una moria generale, un andarsene degli sviluppatori. Ricordiamo il recente caso di Keiji Inafune, che è il papà del franchise di Megaman, grossissimo soprattutto in Giappone, che è stato un franchise che l'azienda ha voluto ignorare, dichiarando che non c'era alcun interesse da parte del pubblico nei confronti di questo titolo, di questo personaggio, di questa IP. Inafune se ne va, si va a fare la sua bella campagna Kickstarter e ti tira su più di 10 milioni di dollari. Quindi diciamo che Capcom ha fatto davvero molto male, ha preso delle decisioni veramente sbagliate sotto tanti 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 punti di vista e dove ci troviamo adesso purtroppo è una posizione che sì, poteva essere prevenuta ma considerato come stavano andando le cose era anche abbastanza ovvio che le cose sarebbero andate in questo modo, che si sarebbe arrivati a questo purtroppo. E quindi il problema è che adesso nessuno effettivamente sa in che direzione andranno le cose, se dipenderà tutto da chi comprerà l'azienda, perché a questo punto che verrà comprata è praticamente certo, da chi verrà comprata è un'incognita totalmente, diciamo ci saranno soltanto supposizioni fino al momento in cui non avverrà effettivamente questa transazione. Da lì niente, da lì bisognerà semplicemente vedere in che modo decideranno di gestire le compagnie e che cosa se ne farà dell'IP e della divisione gaming di Capcom. Quindi è brutto, è davvero brutto per tanti di noi che sono cresciuti con questa azienda rendersi conto che insomma è un periodo che è finito, è uno di quei grandi colossi come quando ci fu la storia lì di Atari che si perse, adesso non è una bancarotta per carità, non è la stessa cosa, però venire venduta in questo modo è veramente una brutta 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 cosa. Niente, adesso semplicemente si aspetta e si vede che cosa succede, non c'è molto molto altro da dire in fondo, quindi abbiamo pensato di fare un podcast perché è una notizia che francamente ci colpisce molto anche a livello personale, storico, di noi bambini che ci mettevamo a giocare in sora giochi con Street Fighter ed era uno spettacolo e vedere che questo grande colosso si è ridotto a vendersi è proprio una cosa triste. Comunque, vi terremo aggiornati ovviamente sul sito non appena si sapranno ulteriori informazioni sulla vicenda, se uscirà fuori un nome, qualcuno interessato eccetera. Per il momento vi saluto e ci sentiamo alla prossima.